Tutta l'occasione nasce come un incontro formale per riflettere, per saper confrontarsi con l'idea della stabilità, la stabilità dell'artista e il suo valore, quindi un valore che può essere misurato rispetto ad una collettività ma che è spesso anche misurato in termini economici, in un risorso economico che si deve avere o potrebbe avere. L'idea nasce da due considerazioni a questo tema, la prima è la visibilità raggiunta dall'artista e dalla produzione artistica in termini oggigiorno in termini di quantità di mostri, di eventi, di ennali, fiere che sono organizzate. Una disabilità che però esce anche fuori dall'istazio, quindi da tutta l'idea, perché si parla di arte, forse non so in che misura in Italia, però comunque diciamo in Europa in un contesto mondiale si parla di arte su riviste di mode e di costume, l'arte viene considerata nei processi di sviluppo e di trasformazione urbana, l'arte viene limitata anche in contesti aziendali, come simola la formazione di determinati schienzi per mangiare i dipendenti. E infine è una visibilità raggiunta dall'artista e che quanto è stato che l'osservazione, diciamo, è stata quella che c'è una centralità della produzione artistica nell'attuale sistema economico e politico. Mi spiego. Cioè, oggigiorno, specialmente nel nord Europa, credo che l'Italia fosse vissura di more, però lo sviluppo urbano, comunque il futuro di una città e di un modello anche economico, diciamo, di supervivenza, tiene in conto l'impiego di industrie creative. Come industrie creative si intendono figure varie in cui l'artista è incluso e che vengono considerati come un fattore, diciamo, produttivo per l'economia di un territorio in quanto generano un ritorno economico. Quindi in realtà come mi interessa è capire in che modo un discorso delle industrie creative ha un effetto rispetto a come l'artista si sente, rispetto al suo valore, a quello che fa anche. Quindi non solo l'oggetto che esplice come l'artista, ma anche questa figura come viene istituzionalizzata e nel caso come viene considerata all'interno di questo tipo locale, di sviluppo politico, di sviluppo anche economico. Allora, potrei essere più chiara leggendo queste definizioni, però nel termine dell'obiettivo di oggi è perché ho scelto il dono e perché mi va di riflettere su queste intersezioni, su la creatività, in senso l'artista, quindi come la storia di vita artistica e il mondo economico. Il mondo sociale viene anche, infatti in alcune zone si capirà anche il terzo intervento, diciamo, questo affetto a tutti, oltre a tutti, 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 a tutti.